Siamo con la nostra cliente, il certifico del Barclayes. Siamo il film Gargano, un app più grande di speranze che ci porta le cittadine molto saldanti, la fronte aia, ci siamo sviluppati su tutti quanti interessati per Gargano. Con quest'app è costretto comunque per visualizzare tutti quanti gli enti che hanno un ristorante migliore del mondo e le spiagge più belle. Ti prendi meglio di questo anche perché oggi non ci hai parlato proprio dell'importanza di un sociale ad essere. Riusciamo a costruirci una vita su misura in questo modo e quindi si troverà più comodo ed è meglio, taglia molti passaggi, ci permette questa app, questa tecnologia ci permette di entrare direttamente in contatto con ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi ben venga, più prossimità c'è tra le persone, tra le persone, cose, situazioni, eventi eccetera, meno distanti ci sono, migliore. Poi noi come applicazione app, stiamo puntando anche su social network che sta diventando sempre conoscato, lasciamo la parte che tu e te sei ormai conosciuto, abbiamo Instagram, che stiamo andando fortissimo e poi abbiamo Periscop. Cosa ne pensi anche per una diretta di live? Lo facciamo, l'abbiamo già fatto, soprattutto nella prima puntata e continuiamo a farlo, comunque continuiamo ad utilizzare Periscop perché, come si dice, quando si… Periscop lo utilizziamo, utilizziamo Periscop, lo utilizziamo Instagram, io sono un po', da un punto di vista un po' piccolo per quanto riguarda Instagram, devo imparare a dedicarci di più, ci siamo, e ci ringrazio che ci siano, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci ringrazio, grazie, grazie. Ciao ragazzi, grazie. Grazie a tutti.